Il nuovo migrante è stato affrontato ieri dalla ministra Lamorgese nella sua missione in Tunisia con la commissaria europea Johansson. Oggi la ministra è nella sede di rappresentanza della prefettura di Modena. L'ascoltiamo. L'Italia è andata insieme all'Europa in Tunisia per dare una mano a quel paese che sta vivendo un grave periodo di crisi economico, sociale e quindi noi riteniamo che come è richiesto tra l'altro anche dalla Tunisia ci debbano essere dei progetti in modo tale da ridare un futuro a quella popolazione, ai giovani che non vedono per loro nel loro paese il proprio futuro e quindi il senso della visita congiunta è questo. E' ovvio che poi c'è stato anche un momento di attenzione sui problemi collegati ai flussi migratori e quindi anche su questo abbiamo trovato una grande condivisione per quanto riguarda una maggiore flessibilità nei rimpatri e anche dei canali informativi più efficienti tra di noi. C'è il patto asilo che si sta esaminando in Europa che è difficile che venga chiuso nell'immediatezza perché ovviamente comporta tanti problemi.